Ci troviamo a Piazza del Popolo per la giornata del biologo nutrizionista e siamo qui, è il secondo appuntamento, c'è stato un progetto sperimentale l'anno scorso, un successo grandioso, quest'anno siamo in tutta Italia, appunto a Roma, in Piazza del Popolo. Cosa facciamo qui? Siamo patrocinati dal Ministero della Salute e poi c'è anche il patrocinio della nostra Cassa di Previdenza, noi siamo tutti biologi nutrizionisti dell'EMPAP, e la Supervisione Scientifica della Scuola di Ansel, che è una testata giornalistica online. Siamo qui per fare prevenzione primaria dell'obesità e del sovrappeso, oltre che per parlare della nostra figura appunto del biologo nutrizionista. Il problema del sovrappeso è un problema reale, un problema in crescita e nasce dal disordine, dalla fretta, dalla disabitudine a cucinare e a rimanere in famiglia, dall'aver dimenticato che la nostra alimentazione è prevalentemente di origine vegetale, la nostra dieta mediterranea, non portiamo più la frutta in tavola, non portiamo la verdura, i legumi, l'abbiamo caricata di zuccheri, di grassi, allora siamo qui per ascoltare le persone, le persone che non si possono permettere un nutrizionista, le persone che magari sono timide e temono di raccontare le abitudini alimentari, noi le accogliamo qui in piazza, gli facciamo un'intervista alimentare, ci raccontano di loro, delle loro abitudini di vita e cerchiamo di migliorare la loro alimentazione, fornendo dei consigli personalizzati, per fare prevenzione primaria, perché veramente con poco, con poche indicazioni, con poche modifiche dello stile di vita si possono avere grandi risultati per non far iniziare le patologie, basta poco.